Ed eccoci di nuovo qua su Fumetteri Non Air. Allora, in questo video vi voglio raccontare della mia ultima lettura con mangaka Hideshi Ino, cioè Banchetto di Sangue, edito in Italia da In Your Face Comics, nella sua solita edizione brossurata, circa 15x21, al prezzo di 18€. Ho dedicato una puntata del podcast a Hideshi Ino e a tutte le letture che ho fatto sue e arrivate in Italia, tutte le opere che hanno pubblicato Dinite, che ha pubblicato in passato Telemaco Comics e recentemente anche In Your Face Comics. E siccome lì avevo fatto veramente un sunto di tutto ciò che avevo letto di Hideshi Ino e visto che In Your Face Comics ha altre sue opere in cantiere, insomma per il momento ho l'intenzione di dirvi che cosa ne penso anche delle nuove uscite, in modo tale che voi possiate recuperare quella puntata, avere quindi in mente un po' tutto il percorso di Hideshi Ino e poi andare ad aggiungere, ad incastrare anche le altre singole letture che verranno proposte di qui in avanti da In Your Face Comics o chissà anche da altre case editrici. Questa innanzitutto è una raccolta di storie brevi, non è una storia unica, sono sottilmente collegate non dai personaggi ma semplicemente da come Descino approccia alle storie, ai vari capitoli e anche le chiusure che alla fine riesce a dare. Cioè si vede che c'è un'impronta unica all'interno di queste storie brevi. All'inizio trovate anche delle pagine a colori, compreso l'indice, eccolo qui, eccoci, illustrazione iniziale, una bella introduzione anche di Maurizio Ercole a questa nuova raccolta di storie brevi e anche le primissime pagine della prima storia sono effettivamente a colori, eccole. Quindi un'edizione che secondo me vale la pena di essere acquistata, essere letta, insomma anche la stampa è assolutamente buona. A me in generale questo formato 15x21 piace parecchio, mi piace il fatto di avere questi volumi con le bandelle senza sovracopertina, che insomma secondo me è un impiccio in più che assolutamente non mi piace, è molto maneggevole, insomma queste edizioni sono molto carine. Ovviamente costano, costano non poco e quindi posso capire che uno mi possa dire anche per 18 euro voglio ancora di più. Questo è un discorso assolutamente legittimo. Bene, questa raccolta è stata pubblicata nel 1990 in Giappone e diciamo che quindi è abbondantemente successiva alla prima parte della carriera di Hideshino, cioè quella che potremmo dire si conclude con Visione d'Inferno. Come vi ho già raccontato infatti nella puntata dedicata a quest'autore, è come se ci fosse una prima parte della sua carriera e poi una seconda parte, e in mezzo c'è proprio il suo capolavoro, cioè Visione d'Inferno. Banchetto di Sangue è composto da otto storie diverse, ma accomunate tutte da un elemento in comune che è diverso rispetto a quello che abbiamo visto in tutte le altre sue raccolte, cioè spesso noi leggiamo nei suoi racconti dei personaggi deformi, orribili, che veramente respingono le persone solamente con il loro aspetto, persone malate, persone deviate mentalmente, ok, però è tutto molto tangibile, molto reale. Mentre in questo caso i racconti partono tutti da personaggi che hanno una specie di ossessione, e quella ossessione diventa sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande, fino a diventare secondo loro reale, ma in realtà noi lettori capiamo che non è così, è tutto nella testa dei personaggi. Quindi l'horror non è più fisico tangibile, ma è tutto nella testa del personaggio di turno, è tutto immaginato, e quindi è un modo di raccontare queste storie macabre totalmente diverso rispetto a quello qui che ci aveva abituato. Però poi tutto il resto, le chiusure che sono sempre molto splatter, il disegno, è tutto totalmente ino. C'è solamente questo piccolo particolare che caratterizza tutte le storie all'interno di questa raccolta, e che insomma li accomuna e che le differenzia anche da tutte le altre letture e volumi che ha pubblicato Ignore Face Comics e anche quelli che ha pubblicato Dean It. È una molto carina come raccolta, mi è piaciuta. È come sempre una lettura che nel suo essere horror è comunque divertente, è comunque simpatica, è anche appassionante, è molto facilmente leggibile, perché ino è così, è abbastanza immediato, facile, almeno nella maggior parte di queste raccolte, poi ci sono alcune eccezioni. Ecco, i finali secondo me sono sempre stati divertenti, simpatici, centrati, e quindi questo ha donato molto gusto alla lettura. È una raccolta che io promuovo, non è probabilmente fra le mie preferite, perché non riesco a metterla sopra a Vision d'Inferno, non riesco a mettere sopra questa lettura Living Corpse, non riesco a metterla davanti, insomma, ad alcune opere che mi hanno veramente, veramente colpito di Descino, però comunque è un'opera assolutamente promossa. Non a caso probabilmente le due opere che ho citato sono delle storie uniche, e non delle raccolte proprio di storie brevi, anche se io apprezzo questo modo di raccontare molto spezzettato, però comunque forse lì non a caso mi ha colpito un po' di più. Come spesso capita con i Descino, ma anche con tanti altri autori che sono considerati dei caposaldi del genere horror giapponese, molte delle loro storie sono state considerate in passato in Giappone, delle storie per bambini. Ecco, non so come fosse vissuta una raccolta del genere in Giappone, ma assolutamente non rimarrei sorpreso, colpito dal leggere, dallo scoprire che queste raccolte erano, questi capitoli erano pensati proprio per un pubblico di giovanissimissimi, perché mi sembra molto, molto, molto plausibile dalla lettura che ho fatto. Bene, concludo qua quindi questa mini, 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 mini opinione sulla lettura di Banchetto di Sangue di Descino. Presto arriveranno altre opere, sempre grazie a In Your Face Comics, e penso, credo, che farò anche in futuro questi video dedicati alle opere di I Descino. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate se lo avete già letto e ci vediamo sempre qui in una prossima puntata o in un prossimo video su Fumetti Lino Nero. A presto!